Le forze del mare e della storia sono così, senza coscienza, senza morale. Cosa mi importa di questo oceano? Che viva pure la sua vita e noi la nostra. Ma cosa ci serve conoscere questa forza? Noi abbiamo le nostre città, i nostri cieli, i nostri comodi appartamenti, la vita, la bellezza. Un popolo è circondato dall'oceano. Un essere umano ha un oceano in sé. Penso molto a questa città negli ultimi tempi. Da qualche parte c'è il Louvre.